Ed eccoci qui finalmente con una nuova action figure per la linea Batman di Animated Series prodotta da DC Collectibles In questo caso abbiamo Batgirl naturalmente dalla prima serie animata di Batman Ecco qui la solita confezione, qui ci dice che è la numero 41, siamo arrivati ben alla 41esima uscita Qui sul retro vediamo semplicemente il logo a colori invertiti Direi di non perdere altro tempo su questa confezione, andiamo subito a vedere la nostra figure fuori da essa Ed eccoci qui con Batgirl e tutti i suoi accessori fuori dalla confezione Andiamo a vedere la solita base qui con la basetta appunto bianca con il turnaround del personaggio E poi abbiamo l'asta e finalmente si sono decisi a cambiare anche nelle figure singole la pinza Io devo dire che apprezzo molto questo cambiamento con questa pinza a molla senza ulteriori parti che danno fastidio da dietro Per il resto abbiamo un po' di mani intercambiabili ovvero queste due qui che sono fatte apposta proprio per reggere il Batarang Molto ben realizzate Poi abbiamo queste altre due destra e sinistra sempre a palmo disteso Eccole qui Poi abbiamo queste altre due con questa posizione quasi da artigli di Catwoman E poi abbiamo queste altre sempre per reggere il Batarang ma in una maniera diversa E ovviamente abbiamo anche il Batarang che se non ricordo male lei trova proprio un Batarang di Batman E da lì poi decide di diventare Batgirl e quindi questo è proprio identico a un Batarang che ha Batman Ora vediamo la figure più nel dettaglio Allora questo qui è il viso devo dire che è dipinto abbastanza bene tutto sommato Mi piace veramente un sacco il blu che hanno utilizzato Un blu molto vivo molto acceso proprio come doveva essere Come si può vedere il costume è chiaramente ispirato a quello di Adam West il Batwan del 66 Il mantello naturalmente è in plastica morbida e anche i capelli che fuoriescono qui dal cappuccio Per il resto qui vediamo il simbolo giallo stampato molto bene La cintura anche dipinta abbastanza bene Vediamo anche i guanti con le mani di base a pugno Queste qui sono le gambe anche queste molto semplici però ben realizzate Abbiamo anche gli stivaletti anche questi devo dire niente male Qui c'è il mantello vediamo anche il fondo schiena di Batgirl Qui vediamo degli strani segni gialli però per fortuna sono coperti dal mantello Andiamo a vedere le articolazioni abbiamo la testa qui su sfera che può guardare leggermente verso l'alto Può guardare anche un po' verso il basso però è un po' limitata Rotazione laterale senza problemi e anche movimento laterale in questo modo Poi abbiamo l'apertura del braccio fino qui La rotazione a 360 gradi Il piegamento qui del gomito a 90 gradi Rotazione qui al gomito, rotazione qui al guanto, rotazione al polso e piegamento al polso Qui purtroppo alla vita non c'è rotazione Potevano sforzarsi a metterla, potevano nasconderla sotto la cintura magari Abbiamo l'apertura laterale delle gambe praticamente massima Sono 180 gradi Poi abbiamo il piegamento della gamba in avanti fino qui Piegamento all'indietro abbastanza limitato Abbiamo il piegamento qui al ginocchio a 90 gradi quindi non male Rotazione qui allo stivale, piegamento del piede in su, piegamento del piede in giù molto buoni Però non c'è la rotazione laterale della caviglia purtroppo Comunque tutto sommato è abbastanza ben posabile come figure Andiamo a misurare l'altezza e siamo praticamente sui 5 pollici e mezzo ovvero 14 cm Ovviamente è arrivato il momento di paragonarla con il Batman della serie animata E ragazzi secondo me sono in scala perfetta tra di loro perché appunto nella serie animata Questa Batgirl è molto più bassa di Batman E secondo me insieme sono veramente veramente fighi Naturalmente è arrivato anche il paragone con il mitico monnezza Spider-Man Che risulta veramente un gigante Lei sembra proprio una bambina in confronto a questo Spider-Man Detto questo ragazzi il voto che mi sento di dare a questa figure è un buon 8.5 Devo dire che rappresenta il personaggio molto molto bene Nella DC Collectibles ha fatto un buon lavoro su questa figure non si può dire assolutamente nulla Fatemi un po' sapere cosa ne pensate voi di questa Batgirl con un commento qui sotto Lasciate il like come sempre se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete condividerlo Se foste interessati all'acquisto di questa figure la trovate nel mio negozio online ARA Service Shop Nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione sempre se non è già esaurita Io vi lascio le pose fighe ciao da ARA da Batgirl e collezionate sempre Ed eccoci qui con un'altra action figure per la linea DC Collectibles The New Batman Adventures Abbiamo tra noi Robin Team Drake non Dick Grayson appunto dalla seconda serie animata di Batman La confezione non me la faccio vedere come al solito perché è esattamente la stessa Questa figure è precisamente la numero 10 come ci dice il nostro solito foglietto illustrativo qui E viene dalla puntata Old Wounds eccoci qua allora andiamo a vedere da cosa è accompagnata come al solito Dalla sua base con tanto di turnaround del personaggio e loghi della serie animata La solita pinza questa volta non con i fastidiosi prolungamenti perché questa figure è dotata di mantello Potevano fare tutte le basi così e sarebbe stato molto meglio però contenti loro Abbiamo comunque come altri accessori queste splendide manette qui con catena in metallo e queste altre parti invece dipinte in argento Si possono anche usare contro qualche villain magari con le braccia un attimo più sottili basta semplicemente rimuovere le mani e inserire queste manette Per il resto abbiamo un po' di mani intercambiabili ma prima vediamo il piccolo batarang di cui è dotato Proprio a forma di tipistello vedete si intravedono anche le corna Abbiamo lo spara rampino classico da solo e si può anche rimuovere questa parte finale E poi abbiamo come al solito il rampino nella mano che non è rimovibile Anche qui la parte finale è rimovibile volendo Abbiamo inoltre due mani intercambiabili con questa presa appunto per impugnare magari il rampino o le manette o non lo so E poi abbiamo queste altre due manine intercambiabili con la presa per impugnare il batarang Assolutamente identiche sono destra e sinistra Ma veniamo al nostro Robin Eccolo qua e devo dire che il viso è assolutamente ben realizzato Rispecchia molto molto bene quello del personaggio Solo che se notate su questo rosa c'è un attimo un po' di sporco Credo sia un difetto solo della mia figura Ogni tanto queste figure arrivano come se avessero combattuto la guerra mondiale Per quanto sono sporche Però non si sa vabbè sarò capitato male io come al solito Comunque ripeto lo scalp è a dir poco perfetto I capelli sono fantastici e il viso è anche questo molto ben realizzato Per il resto anche i dettagli del corpo comunque sono ben riportati Qui vedete ancora un dettaglio di sporco nero sul painting E per il resto ragazzi le forme sono assolutamente quelle che devono essere Molto semplici come al solito nella serie animata E nella seconda serie sono ancora più semplici E li hanno riportate in forma di figure davvero alla perfezione secondo me C'è anche il classico mantellino qui in plastica morbida Anche questo comunque ben realizzato e stranamente abbastanza pulito Vediamo le articolazioni abbiamo la testa che è su sfera Può guardare leggermente in alto leggermente in basso Può naturalmente ruotare può muoversi anche un po' lateralmente in questo modo Abbiamo questa strana articolazione qui di apertura delle braccia Non molto efficace Strana perché? Perché c'è questo rosso che continua sul braccio Certo hanno visto che appunto nella serie Vedete ora uso questa base per farvi vedere Vedete il corpo ha questa strana forma un po' triangolare Quindi è un po' più largo alle spalle Quindi il rosso va un po' sulle spalle Certo l'hanno voluto riportare alla perfezione Però secondo me potevano evitare Facevano direttamente le maniche tutte nere Non sarebbe cambiato nulla a nessuno secondo me Comunque per il resto il braccio può anche naturalmente ruotare in avanti e indietro C'è il piegamento al gomito a 90 gradi Rotazione sempre al gomito È un attimo brutta da vedere questa articolazione Però non è gravissima come cosa Abbiamo il piegamento qui al polso e la rotazione al polso Comunque devo dire che la plastica di questa Fear Come anche delle altre che sono uscite dopo le prime 4 famigerate È molto migliorata quindi non c'è nessun problema di rumori strani O di parti che si spezzano Abbiamo comunque l'articolazione qui alla vita Il piegamento della gamba in avanti È abbastanza buono quasi 90 gradi Naturalmente anche all'indietro L'apertura laterale Questa volta non troppo brutta da vedere Oltre che efficace Forse una delle migliori di tutta la serie Fino adesso il piegamento al ginocchio a 90 gradi Rotazione qui allo stivale Il piegamento del piede in su Il piegamento in giù E la rotazione laterale del piede Quindi ragazzi è una Fear piccola Ma comunque ben articolata È anche abbastanza ben dettagliata Salvo i piccoli errori di sporco vario Che ci sono sulla mia Ma credo sia un caso abbastanza isolato O almeno spero Come dettagli tecnici Vi misuro subito l'altezza E ve la paragono a Batman naturalmente Perché va fatto assolutamente Come altezza siamo sui 5 pollici Quindi sui 13 cm più o meno Ovviamente la Fear è in scala 6 pollici Ma è il personaggio che è estremamente basso E qui la vediamo al fianco di Batman E devo dire che comunque la scala È assolutamente rispettata alla perfezione Perché questo Robin è molto molto più basso di Batman Essendo un bambino Comunque ragazzi la recensione finisce qui Fatemi sapere un po' cosa ne pensate voi di questo Robin Magari ditemi anche quale versione di Robin Mi piace di più Se questa di Tim Drake O quella di Dick Grayson Classica della serie animata Ovviamente Lasciate il mi piace Se il video vi è piaciuto E se volete aiutare il canale a crescere Condividete questo video Come sempre vi invito a guardare Qui sotto in descrizione Dove ci sono tutti i miei social Contatti vari Facebook Twitter Gruppi Facebook E naturalmente trovate anche Dragon Legend Da cui ho acquistato questa splendida figure Comunque vi lascio alle pose fighe Noi ci vediamo alla prossima Ciao da Ara Da Robin Tim Drake E collezionate sempre Questo 작품 Fra grassi Grazie a tutti Grazie a tutti